Attenzione perché questo brano mi ricorda il modo in cui inizia un vecchio brano di Jake Lafuria con Vacca e c'era di mezzo un club, ora non ricordo bene il titolo ma chi conosce V.I.M.P. una cosa del genere, non lo so, mi ha ricordato questo, quel brano, l'attitudine, ci sta, fondamentalmente la tematica è quella, in versione 2021 e con Gue Pechegno al posto del Vacca di turno il Capo Plaza che fondamentalmente possono essere anche paragonabili da un punto di vista di quello che rappresentava Vacca ai tempi e di quello che rappresenta Capo Plaza oggi diciamo. In ogni caso il Gue Pech ragazzi continua a stupire, continua a martellare, ha fatto una strofa veramente da club, porca puttana, cioè veramente siamo arrivati al punto in cui Gue Pechegno non conta più quello che dice ma conta solo quello che fa e sto parlando del modo in cui scrive proprio la strofa e del modo in cui la immette nella base, nella strumentale, Gue Pechegno ormai ragazzi vabbè che è quello che è insomma da una vita, è un veterano e quindi quando sei un veterano comunque o per ogni circostanza ti sei muovere perché poi lui è uno che ha fatto qualunque cosa, ti fa Fast Life e te lo fa veramente suonando underground e ti piscia in culo ai rappusi, ti fa la trap e sta sempre là comunque non è uno che dici si fa 100 dischi si sputtana perché si sputtana Gue Pechegno però comunque lo fa col cuore, con passione perché anche se magari diceva fa la strofa di merda parla solo di soldi a volte la critica che si può fare sì però comunque entra in quel mondo là, ci gioca, cioè si mette in gioco sempre e io per questo fatto lo stimo anche quando si sputtana anche quando dico ma che cazzo stai a fa' anche quando dico Gue Pechegno quante anni c'hai? 8? Quante anni c'hai? 15? Ripigliati però comunque il rispetto non manca mai perché c'ha due palle quadrate e quando si fa sta musica da club in cui comunque c'è disimpegno ma c'è lo stile, l'esercizio di stile c'è la metafora giusta, c'è il gioco di parole, te la fa nota di demerito invece a Capo Plaza che come al solito vuole strafare ed è sempre... cioè capito? Suona fake, ma che puoi partire con una strofa? Il mio socio te la punta, ti sparo, ma che cazzo stai? Di ma che spari? ma dove stai? Cioè questo è quello che voglio dire, è che un conto è fare l'esercizio di stile perché è chiaro che è una battuta, è chiaro che è una metafora, però attiniti alla realtà che è più credibile cioè Gue Pechegno ti porta in un mondo, te lo gioca, te lo giostra a livello di immaginario, è coerente tu te lo senti e dici ok io sono dentro il mood e me lo cucco poi arriva Capo Plaza e la spara e dice vabbè la sparata grande cioè così no, però ti rovina tutto raga, dico sul serio perché stilisticamente ci sta, sto pezzo va, sto pezzo è una bomba cioè penso che chiunque, qualunque rapper emergente coi controcazzi dopo una strofa del guepec del genere gliela molla, capito? e va bene ma perché devi andare oltre? Cioè mi rovini l'immaginario, ciò che era plausibile d'un tratto non lo è più e questo è il problema di Capo Plaza e poi anche lì i miei soci fedeli, Gustavo ma cioè, a parte che Narcos è uscito tanto tempo fa, sono stati fatti tanti giochi di parole così però c'è anche sto fatto, non so se lo puoi tanto dire visto che tutti i tuoi compagni ne vanno ad affanculo e tu hai anche difeso in vecchi podcast però nel senso c'è, attieniti alla realtà, gioca, divertiti però capito è come mi è sembrato, come quello là che al campetto si mette a fare gli orologi a pressione e poi arriva il difensore fatto bene che ti toglie la palla e via è inutile che giochi a smarcarti tutti se poi non vai a rete e per me non contano gli streaming, per me non conta chi sei, chi non sei per me conta che ascolti sta traccia e guepecchegno ha 40 anni ormai quanti ce n'ha? 40, 50, non si sa neanche lui, 100 anni però comunque si attiene, questo è il discorso se no la strofa c'è poi c'è anche questo altro tizio, Pablo si chiama io non lo conosco ragazzi, non posso conoscere tutti quelli della nuova scuola soprattutto sicuramente è un rapper nuova scuola perché non mi pare di ricordarlo non mi pare di leggere Snoop, Pablo o roba del genere non lo conosco, la strofa è la classica strofa un po' spagnoleggiante sarà di quelle zone là pure magari portoghese o magari brasiliano non mi sono informato, non ho interesse a farlo perché io vado in one take quando registro, registro a meno che non mi inciampo, non dico due puttanate, proprio mi fermo quindi sarà di qualche zona, si sarò ignorante io perché non mi voglio troppo informare perché ogni volta ne esce uno diverso, uno nuovo, uno che dovrebbe essere super famoso super importante, frega un cazzo è la classica strofa in stile spagnolo italiana stop quindi quello è e ci sta benissimo fa proprio parte del mood sta a posto così non mi sento di dover aggiungere altro questo è il pezzo è una mina Taiwan mo lo sentiremo parlare perché ha fatto un disco pieno di gente con le palle tutte le persone che adesso in questo momento stanno dominando il mercato sono in questo disco quindi è l'era dei produttori è l'era in cui i producer fanno come cazzo gli pare sono più importanti degli artisti sono più frontman loro che gli artisti stessi quindi che dire, alziamo le mani bene così ascolterò il disco intero, ve lo consiglio pure a voi dopo Fantasmi sta bomba e nada insomma anche mi piace questo esercizio di stile non conti un cazzo mi ricordavo i vecchi tempi quando andavi nel club quando andavi nei locali e veramente dal faccia a faccia basta sit poi no questo è il concetto del brano e insomma guepeghegno che i club l'ha pure girati forse forse lo può anche dire capoplazza non lo so grazie a tutti grazie a tutti